Rav, qui c'è un supplimento, un'aggiunta. La forma che sveglia il Creatore nella materia viene verso noi sotto forma di domanda. E svegliano in noi chissaron, necessità, bisogno. E allora noi vogliamo rispondere, riempirci, riempire questo chissaron. E così noi lo conosciamo, quindi dalla forma negativa in certo senso e poi anche da quella positiva. Noi dobbiamo svegliare come nei bambini per il gioco. Guarda quanto è bello questo gioco qua e là. E allora loro si addentrano in questa faccenda. Quindi da queste due forme, dalla mancanza, da un bisogno e dalla luce che riempie, e da lì abbiamo la conoscenza del Creatore. Quindi il lavoro suo, la sua professionalità, si trova non in forma completa, ma in quanto lui è sceso e si è fatto preparare tutti questi stati per far sì che lo scoprissimo completamente e che arriviamo alla somiglianza della forma con lui. Con questo noi scopriamo la grande ragione e tutte le forme che noi studiamo in quanto ci le ha preparate per noi. La cosa importante è che noi scopriamo l'amore perché noi vediamo in quanto lui ha sofferto, cioè nel nostro linguaggio si dice lui ha sofferto, si è ristretto, si è preparato, quanto lui si è investito, ha dato a se stesso per far sì che noi abbiamo un posto nella creazione.